anche lei ginnasta minuscola nella prova del corpo libero a Roma aveva ottenuto 9.275 aveva sbagliato nettamente una diagonale la Torinese ma seguiamo la sua prestazione è uscita peccato un decimo di punto di penalizzazione per questa uscita di pedana 12 metri di lato la pedana sulla quale agiscono le protagoniste del corpo libero la pedana sulla quale agiscono le protagoniste del corpo libero senza altro meglio che a Roma la prestazione al corpo libero della rubrica